La seconda parte del simposio sarà in italiano ed è in italiano per una serie di motivi legati al fatto principalmente che si spera di avere un dibattito più ampio anche da parte degli studenti e da tutti quelli che sono intervenuti. Quindi cerchiamo di calarci quindi in una realtà che vede da un lato le imprese e dall'altro lato il problema della regolamentazione. Qua vorrei solo dire due brevi cose su questo punto. Anche qua c'è una storia, la data protection in Italia ha una storia recente tutto sommato perché solo nel 1996 abbiamo avuto una regolamentazione italiana sulla materia. E quindi noi forse più che altro paese patiamo quello che è un gap culturale su questa materia e quindi una certa ritrosia a occuparci di questo tema. A questo tavolo però trovate delle rappresentanti di corporation che non sono player solo nazionali ma sono player mondiali. E io credo che soprattutto dai player maggiori ci provenga un diverso approccio e mi sembra di vedere che sempre più venga colto questo valore competitivo della data protection. Io mi ero occupato di questo e mi fa piacere che poi anche più recentemente anche il garante europeo se ne sia occupato un pochino. Cioè cogliere quello che diceva poi, non ho inventato io, lo diceva Stefano Rodotà nei primissimi convegni che fece all'autorità garante. Cioè l'idea di vedere la privacy, la data protection non come un limit, un honor, un costo ma un beneficio. Credo che anche l'autoressa Palumbo ricordi da costi a benefici quel convegno che si fecero molti anni fa ormai. Ebbene, sono passati tantissimi anni, credo siamo passati dieci anni almeno da quel convegno, ma non so quante imprese ancora hanno colto questo. Però allo stesso tempo vedo che le grandi imprese, pian piano, stanno modificando il loro approccio e stanno sempre più assumendo una posizione che è orientata a valorizzare l'aspetto della privacy. Ovviamente, come diceva il professor Bygrave, la privacy è un diritto fondamentale. Ecco, io non credo che le corporation lo facciano necessariamente per amore dei diritti fondamentali. Lo fanno perché la privacy è una richiesta che viene dalla società. C'è una crescente richiesta di privacy da parte degli utenti, c'è una crescente richiesta di privacy da parte dei partner commerciali. E c'è anche una crescente richiesta di privacy da parte della stessa impresa. Se voi guardate i dati in materia di furti di dati, data breaches, eccetera, sono dati non troppo rasseneranti. Poi qualcuno dice che sono ingigantiti, insomma c'è un dibattito anche su come vengono calcolati. Però sicuramente imprese cresciute molto velocemente all'ombra della net economy o new economy, che fanno dei dati, un loro asset fondamentale, devono poi anche valorizzarli dal punto di vista della protezione di quei dati, perché se no un asset strategico mal difeso non è, dal punto di vista gestionale, me lo insegnate voi, una delle soluzioni migliori. Quindi per questo c'è questa tavola rotonda, per cercare di confrontare diversi approcci. Quindi abbiamo Vanna Palumbo, che è dirigente del Servizio di Relazione Comunitaria Internazionale del Garante per la Privacy, che ho conosciuto molti anni fa, un convegno apprezzato tantissimo perché non me ne dogano altri che hanno rappresentato in altri momenti il garante, però con lei si parlava di problemi reali e si parlava di qualcosa di concreto, non era il solito discorso molto bello che a volte le autorità lasciano, ma con poco di fattivo. Era effettivamente una persona che sul tema conosce esattamente perché negozia su questi aspetti in nome del garante a livello internazionale e quindi a me è fatto molto piacere che abbia accettato questo invito. Abbiamo poi Sibila Ricciardi, che è il direttore dei affari legali di Microsoft, quindi una grande corporation e una corporation che ha una duplice dimensione, perché è il direttore dei affari legali in Italia, ma è di una corporation americana. E quindi qua si vede anche il duplice approccio, essere una big company di matrice statunitense, che però deve lavorare sul mercato europeo. E quindi questo porta degli interrogativi anche di dialogo interno alle imprese e soprattutto pensa ai miei studenti che guardano alle imprese, eccetera. È anche interessante questo tipo di posizione. Laura Bononcini è responsabile dei rapporti istituzionali di Facebook, con un passato anche in Google, lo possiamo dire, e quindi ha visto vari aspetti di questi due grandi player del settore del social, e non solo social, perché insomma Facebook fa molto, non è solo social. E sicuramente Laura è nella posizione per vedere esattamente cosa fa una grande corporation con i dati. Quando si parla di right to be forgotten e poi magari ne parliamo, sicuramente i social network sono in prima linea, e quindi sicuramente loro hanno una posizione che è molto interessante e che può rispondere o meno a quelle che sono le esigenze che provengono dalla società sul tema. Poi Valentina Frediani, che è qua per Asse Informa. Asse Informa rappresenta le imprese del settore ICT. È una dimensione più italiana, e nello stesso tempo è anche una dimensione di quella che è la natura dell'impresa italiana, che non è una big company molte volte, ma è una piccola o media impresa. E qua è un altro tema molto importante. Quando si parla della data protection regulation, della riforma, c'è un problema di come dimensionarla. Dobbiamo stare molto attenti a non fare un livello unico, perché una big company con delle risorse interne legali, istituzionali, competenze specifiche, non può stare sullo stesso piano di una impresa media e piccola. Sono esigenze diverse, strumenti diversi, costi di attuazione diversi, percezioni diverse. E quindi questo, che in parte è anche considerato dalla previsione della normativa in gestazione, sicuramente è un aspetto centrale. È un aspetto centrale perché c'è una diversa cultura e anche un diverso impatto della regolamentazione in materia di privacy. Quindi mi fa molto piacere che ci sia l'apporto di assi in forma a questo tavolo. Detto questo, come organizziamo i lavori? I lavori prevedono una dieci minuti di presentazione sintetica su un tema dei relatori, a cui seguirà un giro di domande del sottoscritto. Dopodiché apriamo alle molte domande dei miei studenti e di tutto il pubblico, visto che l'idioma e quello locale saranno ancora più agevolati, e poi concluderemo la serata. Grazie. Quindi lascio la parola alla dottoressa Palumbo dell'Ufficio del Garante. Come preferisce? Buonasera a tutti. Parlo dal tavolo, anche se sono in posizione un po' più in bassa rispetto a voi. Buonasera, intanto ringrazio per questo convegno e per essere qui. Vorrei usare questo breve spazio per puntualizzare o comunque per chiarire alcuni aspetti di questa riforma che forse sono meno chiari al momento. Quindi voi tutti sapete che si è tentato ambiziosamente con la direttiva del 1995 di creare un quadro armonizzato di principi validi per gli Stati dell'Unione Europea e che la direttiva era finalizzata al potenziamento del mercato interno, quindi un meccanismo che creava un supporto anche alle imprese europee per renderle concorrenziali e riuscire a scambiare i dati senza barriere tra gli Stati membri e quindi creare un meccanismo in cui c'era la protezione dei dati e il libero flusso delle informazioni. Questa direttiva è stata implementata dai vari Paesi in tempi molto lunghi e con disposizioni differenziate nel tempo ma anche nello spazio e nei contenuti. Basta considerare che per i nuovi Paesi che sono entrati dal 2004, faceva parte dell'acchi comunitario, quindi sono state adottate a scatola chiusa queste norme. Nessuno di noi sa veramente qual è la situazione in questi Paesi a beneficio della registrazione. Fatto sta che poi la direttiva ha introdotto, elaborando sulla Convenzione del Consiglio d'Europa che risaliva all'81, una serie di principi fondamentali, principi fondamentali che si reggono intorno alla possibilità di mantenere il controllo sui propri dati. Quindi siccome i dati personali tendono a diventare una merce con la diffusione dell'automazione dei trattamenti, della miniaturizzazione, delle capacità di storage infinite che si sono sviluppate in questi anni, chiaramente ognuno di noi lascia molte tracce in ogni passaggio che fa. E queste tracce si sommano e rimangono una specie di memoria perenne al di là della nostra stessa memoria. Quindi io non mi ricordo magari cosa ho fatto ieri o sei mesi fa, ci sarà la macchina che saprà più di quanto io possa ricordare ed è pronta ad usarlo contro di me. E quindi mantenere il controllo sui propri dati è un'esigenza fondamentale dell'individuo. Per questo poi la carta del 2000 ha identificato questo come un nuovo diritto. Quindi non bastava la privacy, il diritto di essere lasciato tranquillo, di non avere interferenze in parte largamente dovute a interferenze statali. Quindi lo Stato non doveva entrare nella sfera privata dell'individuo. La protezione dei dati è una risposta proattiva. Chiunque voglia utilizzare i miei dati deve utilizzarli soltanto se alcune condizioni sono rispettate. Quindi le condizioni sono che io sia stato informato a chi abbia dato il consenso nel caso di un rapporto paritetico in cui il consenso vale come base legale del trattamento oppure ci devono essere delle altre basi legali che sono elencate poi nella direttiva. una norma di legge, l'interesse legittimo del titolare del trattamento, diverse a seconda del tipo di trattamento. E quindi informativa, consenso o base legale sono il fondamento per poter parlare di licità del trattamento di dati. Insieme alla licità c'è anche la fairness, cioè la correttezza del trattamento, che significa dare alla persona le giuste informazioni su chi sta trattando i suoi dati, chi è, che uso vuol fare di questi dati e quindi la finalità dei dati, quanto tempo li conserva, a chi pensa di trasferirli, una serie di cose che non sono banali, perché lo vediamo per esempio nella profilazione, la profilazione è un trattamento che avviene completamente all'oscuro della persona, in molti casi, avviene spesso non a partire da dati personali, può portare a dati aggregati, ma i dati aggregati possono consentire di tirar fuori o singled out la persona e quindi crea un problema di discriminazione, quindi si possono correre forti rischi che poi, con le potenzialità che l'industria oggi ha raggiunto, queste persone vengano discriminate. Allora, torniamo alle scadature dell'FBI in epoca prefascista, oggi abbiamo degli strumenti molto più sofisticati e molto più invasivi che possono non partire elaborando dati personali, ma arrivano all'individuo. Quindi tutto quello che rende l'individuo individuabile, quindi non soltanto l'identificazione diretta dell'individuo, ma tutto quello che può portare alla fine ad attribuire a quell'individuo le sue caratteristiche, è soggetto alle leggi di protezione dei dati personali. Ovviamente i principi dettati nel 1995, con l'avvento di Internet e tutti i progressi tecnologici, sono dei principi che devono mantenere la loro effettività. E quindi il progetto di riforma della Commissione, è vero che è un mastodonte, dà perfettamente ragione al professor Bygrave, però l'intento della riforma era quello di stimolare un'applicazione uniforme dei principi, quindi avere una legge valida per tutti, senza variazioni nazionali, ma con obbligo nazionale di applicare gli stessi principi, una sulla Corte che decide, la Corte di giustizia europea, una buona, un'effettiva supervisione delle autorità di protezione dei dati che dovevano avere, in base alla riforma, dovranno avere, speriamo, le stesse competenze, gli stessi poteri, per evitare che ci sia il forum shopping, oppure che ci sia una forma di scelta del Paese dove l'autorità è più debole, i principi sono più laschi per mettere la sede della società e da lì fare un business non in linea, e quindi promuovere le buone prassi, promuovere le società che stanno sul mercato in modo corretto, promuovere questo principio di accountability, quindi abolizione del regime formale di documentazione o richieste anche preliminari alle autorità di protezione dei dati, in vantaggio di una cultura d'impresa che faccia suo, fin dall'inizio, un certo valore dei dati personali e che quindi strutturi proprio l'attività attraverso il riconoscimento di questo valore. E questa è una formula di accountability che poi il mastodonte declina in vari modi, quindi c'è il principio della privacy by design, privacy by default, nel senso di congegnare i sistemi informatici in uso nella società in modo tale da raccogliere i meno dati possibili, da consentire un trattamento differenziato, e quindi questi sono degli aspetti che si declinano insieme, formano una specie di pacchetto mentale del legislatore europeo. Sull'aspetto piccole e medie imprese, in realtà non c'è una grande differenza se vediamo dal punto di vista del soggetto, quindi il soggetto deve essere in grado di poter avere la stessa tutela, tutela nei confronti dell'azienda grande e tutela nei confronti della piccola azienda. Ovviamente gli obblighi devono essere obblighi flessibili e la flessibilità è data dal grado di rischio del trattamento, quindi piuttosto che una mera divisione in base alla tipologia grande o piccola dell'azienda, fare un riferimento al rischio del trattamento, perché ci può essere una piccola azienda che fa trattamenti ad altissimo rischio, una grande azienda che ha soltanto i dati del personale, qualche dato sensibile che sarà il certificato medico, delle ferie, malattie, poca roba, qualche permesso sindacale, insomma non stiamo parlando, invece ci possono essere piccoli, veramente micidiali sul mercato. Quindi un approccio basato sul rischio e non sul danno, perché parliamo sempre del rischio per l'individuo, è un approccio che sta entrando nel regolamento e quindi la Presidenza italiana, che in questo semestre tra l'altro sta guidando i lavori del Consiglio, ha portato un documento su questo risk-based approach che è stato approvato e quindi il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo di massima su questo titolo 4 del regolamento che consente di vedere un po' più chiaro anche il ruolo di strumenti come codice di condotta, le certificazioni, proprio in chiave di dimostrazione dell'accountability della... non so se sto sforando, ci siamo una... Quindi, diciamo, per fare un sommario dell'intento del legislatore comunitario, quindi è tener conto delle sfide, rafforzare i diritti delle persone, quindi renderli effettivi nonostante l'evoluzione, chiarire gli obblighi dei titolari del trattamento e anche dei responsabili del trattamento in Italia, abbiamo queste categorie differenziate e in inglese non ci sono, però il problema nostro ci metteremo in linea, quando avremo un'unica legge cambieremo il tipo di denominazione, quindi obblighi più chiari, non obblighi formali, ma obblighi sostanziali, cultura d'impresa che fa presente queste cose, è una forte supervisione, quindi strumenti forti di controllo della compliance degli imprenditori e delle società che... Poi non è soltanto le società, perché il regolamento si occupa anche del settore pubblico, come se ne occupava la direttiva, quindi è tutto il settore che era già coperto dalla direttiva, ora viene coperto dal regolamento. Ci sono problemi di differenziazione del campo di applicazione rispetto alla direttiva che si applicherebbe alle attività della polizia e delle attività del giudiziario, con problemi sul dove mettere ordine e sicurezza pubblica, lo trattiamo nel regolamento, piuttosto che in una direttiva, e le conseguenze, nel senso che abbiamo avuto, a parte i casi della sorveglianza, che ha noti a tutti le rivelazioni Snowden, però abbiamo la famosa sentenza che ha annullato la direttiva sulla data retention, che ha detto che quella raccolta di dati era indiscriminata, massiva, e non corrispondeva agli standard di protezione dei dati. E quindi in questo caso occorre normale i rapporti tra società che raccolgono i dati per fini di fornitura di un servizio, o commerciali, o quant'altro, e poi l'uso da parte delle forze dell'ordine di quei dati, cosa che nel regolamento e nella direttiva non c'è. Quindi si tratta poi di creare una norma per coprire questo gap, che è un gap piuttosto importante. E qui mi taccio per il momento. Grazie. Molte grazie. Prima di cedere la parola a Sibida Ricciardi, volevo solo su quest'ultimo punto che mi sta molto a cuore che è il punto del rapporto fra parte privata e parte pubblica rispetto al controllo sociale e che ha avuto anche modo di studiare all'interno del gruppo di Nexa con Giuseppe Vacciago. Bisogna tener conto proprio che la sorveglianza e il controllo è cambiata. una volta la faceva al soggetto pubblico adesso il soggetto pubblico bussa le parti dei grandi player privati anche tra quelli che sono a questo tavolo. E non è detto che il grande player ci sono varie poi sfumature che spostano l'ago della bilancia del discorso dal tecnico giuridico al politico. Sicuramente per i grandi player può anche essere un fastidio un onere un rischio di mercato Microsoft ha fatto causa contro il proprio governo su un tema molto delicato una cosa un po' strana avrebbe da dire se la vedessimo con gli occhi di dieci anni fa magari tant'è vero che il former Casper Boden ha fatto alcune osservazioni critiche e quindi diciamo da un lato l'impresa coopera perché può avere interesse a cooperare con uno stato sovrano perché ovviamente ci sono poi tanti tavoli di dialogo con i governi ma dall'altro lato l'impresa è sempre più globale soprattutto su certe dimensioni e non si sente forse più legata a un solo stato e forse capisce che le logiche di mercato in termini di richiesta degli utenti di desiderio di privacy di protezione e quindi di possibili anche scelte commerciali forse portano anche a dover mettere dei paletti a questo tipo di ingerenza e quindi è un tema molto molto interessante se posso anticipare visto che chiamate in causa Microsoft ha fatto una causa contro il governo americano proprio per tutelare i dati dei suoi clienti in un'ottica molto europeista e credo che questo sia stato ora io non ne parlo nella mia presentazione ma visto che mi hai alzato la palla è stato sicuramente un esempio di dove la privacy ha cambiato un pochino il paradigma tra gli Stati Uniti paese dove stanno le multinazionali e che detta le regole e l'Europa è proprio un cambio radicale perché nel caso di Spech il governo americano chiedeva l'accesso dei dati che risiedevano a Dublino senza voler fare un arrogatore internazionale perché dicevano voi siete americani e quindi questi dati ce li dovete dare non ci interessa dove sono stored e la risposta di Microsoft è stata quella del dire no perché voi state andando al di là di quella che è la vostra giurisdizione quindi la nostra volontà era di uniformarci alla richiesta del governo americano ma nell'ambito di quelli che sono i trattati internazionali e quindi applicando la normativa e visto che invece ci è stato risposto grazie di questa informazione ma noi dati li vogliamo lo stesso abbiamo fatto un ricorso e la storia non è ancora finita allora intanto buongiorno a tutti scusate ho iniziato un po' a gamba tesa e innanzitutto volevo ringraziare il professor Mantelero che io invece ho conosciuto proprio facendo una lezione al Politecnico sul suo invito parlando di cloud un po' di anni fa dove rimasi colpita finalmente di trovare qualcuno che parlava di cloud e sapeva di che cosa si parlava facendo il giurista perché di solito tutti confondono molto con outsourcing e ancora c'è chi parla di questo e sono poi molto contenta invece anche di avere entrato la dottoressa perché le cose che ha detto oggi secondo me sono molto in linea con quello che è il nostro pensiero che è un pensiero di apertura in cui per forza le istituzioni il legislatore devono parlare con le aziende e le aziende rendersi disponibili e questo è un po' il messaggio mio di oggi ho messo questa citazione perché credo che in un futuro che per forza sarà un futuro data driven forzatamente dobbiamo avere delle nuove regole perché ad oggi non abbiamo delle normative adeguate alla tecnologia e questa forzatura ci mette oggi nella posizione un po' privilegiata di poter settare delle regole privilegiata perché potremo farle bene e sperare che quindi il mastodonte diventi una farfalla e porti a dei risultati ora questa forse è una speranza un po' troppo ottimista però sia un inizio di quella strada e dall'altro lato invece corriamo il grossissimo rischio di sbagliare di trovare nuovamente delle regole che poi non portino allo sviluppo e non portino in realtà ad utilizzare il potenziale tecnologico che c'è io credo che voi come categoria appunto voi siete tecnici tra virgolette come ingegneri avete secondo me la grandissima possibilità di capire che attraverso il diritto si possono fare moltissime cose io credo che uno dei grandi successi di Microsoft sia proprio dovuto al papà di Bill Gates che facendo il giurista ha saputo individuare delle modalità di licenza che si sono mostrate vincenti e quindi uno stimolo che vi do è imparare come noi noi giuristi dobbiamo imparare a conoscere la tecnologia perché se no non andiamo da nessuna parte anche voi state attenti al mondo delle norme perché possono darvi dei grandi vantaggi competitivi e questo poi ritorneremo su questo tema su diciamo il mastodonte di oggi vediamo un sacco di sistemi che già sono noti ora non so voi se avete familiarità con queste cose ma queste sono le cose in questo momento più in dibattito su quali sono le forme migliori di tutela forme che vanno tutte nella direzione di trovare una soluzione tra il diritto che è by default legato a una questione territoriale e un mondo tecnologico in cui invece la questione territoriale è senza dubbio non rilevante perché proprio la potenza e la forza della tecnologia è quella di non avere queste barriere il dibattito però è molto europeo se noi guardiamo questi modelli sono i modelli nostri sono i modelli europei e il modello americano anche se i Farbur appunto è proprio il concordato che hanno trovato Stati Uniti e Europa per avere un trasferimento di dati però il futuro non è questo il futuro non è un mondo dove c'è l'Europa e ci sono gli Stati Uniti il futuro è un mondo in cui la penetrazione di internet sarà si presuppone nel 2025 all'85% della popolazione e se voi guardate i due grossi cambiamenti sono Cina e Sud America l'India si presume che ovviamente avrà più penetrazione però manterrà più o meno la stessa scala questo su cosa ci deve far riflettere ci deve far riflettere sul fatto che dobbiamo anche aprire il dibattito a questi a questi paesi che è un dibattito difficile perché da giuristi sono degli istituti che noi non conosciamo finché rimaniamo come un law e civil law parliamo lingue diverse ma che si vengono incontro parlare con dei regimi politici come quello cinese in cui comunque il punto di partenza oggi Alessandro a tavola raccontava di una domanda che gli hanno fatto in Cina e la sua risposta era io non conosco abbastanza bene il vostro assetto politico e secondo me è una risposta giustissima perché almeno molto spesso non ci fermiamo a pensare a quale è l'assetto da cui vengono le norme partiamo solo dal testo normativo e invece è una cosa che dovremmo considerare che dovremmo considerare anche per quanto riguarda la formazione delle persone degli studi che hanno pubblicato quest'anno risulta che uno su cinque sono i laureati in materie tecnologiche nell'occidente rispetto ai mondi emergenti questo vuol dire che noi avremo una forza lavoro e una forza di gente specializzata elevatissima che vengono invece da questi altri paesi e con cui ci dovremo confrontare è vero che il potere economico in questi dieci anni rimarrà nelle mani dell'occidente però è vero che si dovrà iniziare a confrontare con tutto questo altro mondo dove ci sarà comunque una grandissima specializzazione tecnica e quindi le norme dovranno anche adeguarsi a questo quindi qual è l'auspicio almeno l'auspicio mio ma comunque credo anche delle aziende qua rappresentate è quello di avere un legislatore che sia aperto a parlare col mercato e a capire anche le tecnicalities perché se delle norme sono fatte sulla base di modelli giuridici sofisticatissimi ma poi che non permettono una reale implementazione a questo punto ci troviamo poi con una regolamentazione che non ha un'effettiva applicazione e io credo che tutto il mondo in cui ora l'Italia purtroppo in questo è un po' regina ma la forza della norma è il fatto che sia applicata una norma disapplicata è una norma da cancellare questo vi porto l'esempio di Singapore che ha questo principio per cui se una norma non può essere implementata loro la cancellano hanno provato a mettere una norma per la gestione delle donne di servizio e hanno visto che non ci riuscivano perché poi facevano tutti etruschi hanno detto va bene deregolamentato fate quello che vi pare perché è più pericoloso avere una regolamentazione che nessuno segue che non averla e ora questo ovviamente è un esempio estremo e Singapore ha una dimensione che gli permette di farlo e anche un regime abbastanza totalitario che probabilmente permette molte cose però noi siamo all'estremo opposto e anche in questo secondo me il legislatore dovrebbe fare una forte riflessione smettiamo di fare le leggi iniziamo a prendere le leggi che abbiamo a razionalizzarle e a trovare delle soluzioni vere ai problemi poi si può appunto dibattere a lungo su quale sia la technicalities però se non partiamo da questo principio un primo principio che è di globalizzazione io rimango ancora abbastanza stupita quando sento parlare di territorialità in maniera molto forte legata a queste tematiche perché se noi non capiamo che la territorialità porta solo a una chiusura al non avere la possibilità di espandere la tecnologia di lavorare al meglio non riusciremo mai a trovare una quadra e i paesi che si chiudono alla fin fine sono dei paesi che sono destinati a non avere uno sviluppo tecnologico che può anche andare bene però di sicuro gli studi economici non ci dimostrano essere una chiave l'utilizzo di standard che siano standard di mercato e che siano standard legati a quelle che sono le aziende se io perché uno dei grossi problemi tra la tecnologia e il diritto è anche che la tecnologia ha una velocità di cambiamento e di innovazione che lascia sempre il diritto indietro che è il motivo per cui ho scelto questa tipologia di diritto perché lo trovo una cosa bellissima che devi sempre inseguire e trovare una quadra di un diritto che manca però allora forse lo standard dell'industria viene invece molto prima rispetto alla norma quindi forse le norme dovrebbero anche recepire questo cioè avere una flessibilità che presupponga che non siano antiche una volta che vengano emanate perché lì è talmente lungo il regolamento quando si è iniziato a parlarne sembrava granché innovativo ad oggi sembra un pochino a tutti dire vabbè stiamo ancora discutendo di cose che forse sono già superate la collaborazione appunto tra industria governo e anche terze parti i diritti civili ne abbiamo parlato prima l'uomo diventa molto più al centro di tutto questo dibattito anche perché in realtà è poi il cliente il consumatore il cittadino e se non partiamo da quelle che sono le sue esigenze anche lì rischiamo di scrivere delle norme di mettere di creare dei castelli che però sono dei castelli che poi non vanno a risolvere quelle che sono le esigenze vere e a volte sono addirittura controproducenti perché ne parlavamo prima tutti quando vengono fatti firmare i moduli per la privacy a non li leggono b li firmano dicendo uffa che noia e questo secondo me vuol dire che l'individuo non è stato messo al centro e sicuramente non gli viene dato uno strumento che gli fa pensare al perché non fa pensare che quello è un suo diritto e che se è un suo diritto esercitarlo o non esercitarlo è una scelta importante per cui anche questa è un'altra dei grandissimi dibattiti il dibattito lì poi è ma l'individuo è un utente o un utonto cioè l'individuo va guidato va forzato oppure l'individuo deve essere padrone della decisione e chi influenza la sua decisione questi ovviamente poi sono ne ho un po' sulla filosofia del diritto però è sicuramente una vuole dire è sicuramente una delle cose su cui bisogna riflettere e su cui secondo me come aziende dobbiamo riflettere io ho visto veramente il cambiamento io sono 12 anni che lavoro in Microsoft e devo dire che il cambiamento tra i primi tempi in cui comunque noi eravamo una multinazionale americana in cui l'America faceva così e quindi si fa così adesso l'approccio è totalmente diverso adesso siamo in grado dall'Europa del dire se non mettiamo le model close nei nostri contratti voi non fate i contratti in Europa perché i dati non li potete mandare a chi vi pare e c'è voluto un anno ma alla fine la corporation ha detto sì e anzi forse questo è anche qualcosa che dà un valore ai nostri clienti e quindi da un problema è diventato un'opportunità e alla fine diventano degli elementi in cui l'attenzione verso il tuo cliente ti porta a cambiare dei paradigmi che portano però secondo me a mettere l'azienda in una situazione molto più positiva rispetto al dire ma sì chi se ne frega di questo tema e credo che questa sia una strada che non abbiamo seguito solo noi un po' tutta l'industria ci sta seguendo noi forse siamo stati un po' all'avanguardia nel credere in questa cosa e mi guardi male perché sto sforando allora vi lascio con due citazioni una è It's Complicated è un libro scritto da una sociologa che casualmente lavora anche per Microsoft ma ha fatto questa cosa non come Microsoft ma che è molto interessante secondo me è molto interessante per voi perché racconta i social network da un punto di vista sociologico nei teenager americani e da una chiave di lettura molto innovativa secondo me in cui appunto non viene più demonizzato il social network ma viene semplicemente visto come parte della vita quotidiana non come un mondo virtuale ma come una parte del mondo è un libro americano quindi è un po' ripetitivo però è una lettura secondo me molto interessante e un'altra cosa di cui volevo parlare è Snapchat Snapchat non so se voi la conoscete ma è una tecnologia che in America ha avuto una fortuna pazzesca perché fa esattamente il contrario del social network infatti ora Facebook si sta adeguando e vi permette di mandare dei messaggini che si autodistruggono quindi la foto imbarazzante ubriachi al bar che non si vuole che il proprio capo veda o la propria mamma o fidanzata insomma quello che è può essere mandata e sparisce e questo prodotto ha avuto un successo pazzesco il che dimostra anche che gli utenti iniziano a avere una totale differente approccio alla privacy cioè mentre all'inizio nel boom era tutto un voglio visibilità adesso c'è molto più una coscienza che la visibilità si vuole avere con chi si vuole non con tutto il mondo e magari in determinati contesti e non in altri per cui vi invito appunto a informarvi su questa cosa perché mi sembra un buon un buon punto di partenza su come la tecnologia è cambiata sulla base delle esigenze poi del cliente cittadino essere umano grazie 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 a Sabina Ricciardi per questo intervento io devo dire che tutte le volte che la invito mi è sempre un piacere e penso sempre che certe aziende abbiano delle fortune di cui magari non si rendono sempre sufficientemente conto perché comunque non ha fatto un intervento meramente legal ma di un legal intelligente che coglie quelle che sono le problematicità certo se poi le aziende non colgono questa visione di prospettiva è un po' un peccato troppe volte il legal è visto solo come quello che fa il contratto invece abbiamo bisogno questo non è rivolto all'utenza ma è rivolto ai giuristi soprattutto abbiamo bisogno di legal che anche essi abbiano questo tipo di commistione cioè abbiano un approccio aperto innovativo non siano fissati solo sulla regola e pensino che il mondo si ferma alla regola perché la regola è frutta di una scelta di una strategia se uno non capisce la strategia difficilmente fa delle buone regole un buon servizio continuiamo questo confronto tra giganti del settore AST e lascio la parola a Laura Bononcini responsabile dei rapporti istituzionali di Facebook e ringrazio molto per essere presenti oggi grazie mille addirittura adesso preventivamente è l'effetto Facebook ecco l'applauso preventivo è un po' inquietante per me quindi prima di tutto io sono l'unica non giurista al tavolo quindi mi perdonerete forse sono già scusata in anticipo esatto era per questo che mi avete applaudito e per questo vi ringrazio fantastico cercherò di essere all'altezza comincio con due numeri che ci caratterizzano per l'Italia 25 milioni di persone che utilizzano business di crescita ma questo significa e lo voglio sottolineare ed è anche il senso del mio ruolo in Facebook una grandissima responsabilità nei confronti di questi utenti di queste persone che utilizzano la nostra piattaforma nel mondo questi numeri sono 1,3 miliardi e 1 miliardo su mobile chiaramente un mondo di persone sulla nostra piattaforma quindi una forte responsabilità che sentiamo un'opportunità di crescita ma anche una necessità per noi di identificare le giuste procedure che siano in grado di garantire il funzionamento e l'opportunità della nostra piattaforma che vediamo che nasce come piattaforma fatta per mettere in contatto le persone tra loro e le persone con le informazioni che cercano o le persone con le industrie con i business che potrebbero volersi mettere in contatto con loro quindi da un lato questa esigenza di scambio di espressione di libera espressione dall'altro la necessità di tutelare la privacy e anche la sicurezza di queste persone che sono sulla nostra piattaforma soprattutto ancora di più se parliamo dei giovani anche che sono chiaramente molto presenti sulla nostra piattaforma sicuramente facciamo degli errori ne abbiamo fatti ne faremo sicuramente però penso di poter dire e sono contenta che questo ci venga anche un po' riconosciuto anche da da Alessandro siamo migliorando abbiamo migliorato e siamo molto orgogliosi di questi passi avanti che abbiamo fatto in termini di trasparenza e di maggiore controllo anche fornito alle persone che utilizzano la nostra piattaforma abbiamo fatto una serie di annunci in questi mesi il più recente è quello il simpatico dinosauro che molti di voi forse avranno visto apparire all'interno della piattaforma facebook che proprio è un modo attraverso il quale noi cerchiamo di educare direttamente le persone al fatto che ci sono un sacco di strumenti su facebook molto facilmente accessibili che gli consentano di conoscere di sapere che dati stanno mettendo sulla piattaforma di sapere con chi li stanno condividendo e questo appunto privacy check si chiama vi consente di avere una visione complessiva della vostra presenza sul social network con chi state condividendo i vostri post quali sono le app che state utilizzando e che tipo di informazioni state fornendo alle app quali sono le informazioni che voi avete messo sul vostro profilo e che sono visibili a tutti anche quelli che non sono i vostri amici sul social network questo è un esempio quindi una responsabilità e passi avanti sui quali lavoriamo molto in termini di trasparenza la privacy by design un altro concetto che porta avanti ogni creazione di nuovo servizio da parte di facebook lo so sono coinvolta anch'io in una serie di call quindi anche anche noi europei siamo coinvolti nelle call attraverso le quali si discutono i nuovi servizi che saranno lanciati anche noi che facciamo rapporti istituzionali naturalmente i legali naturalmente gli ingegneri quindi una verifica sempre basata sulle conseguenze che potrà avere questo servizio e su cosa sugli accorgimenti necessari in materia di privacy quindi diceva la dottoressa Polumbo in macchine che potranno usare informazioni su di me e che che potranno usare queste informazioni contro di me in realtà oserei dire no ma no non perché siamo buoni e non vogliamo fare i buoni anzi io voglio fare la buona però in generale non vogliamo fare i buoni ma semplicemente perché come diceva anche prima Alessandro è un nostro è diventato un obiettivo di business per tutta la categoria noi dobbiamo tutelare i nostri utenti dobbiamo farli sentir sicuri perché se no semplicemente se ne andranno da qualcun altro quindi questo è un concetto molto basilare ma che è veramente fondamentale per noi parliamo del regolamento chiaramente anche noi e soprattutto i miei colleghi a Bruxelles hanno seguito da molto vicino appunto la discussione in merito alla bozza di regolamento in corso a Bruxelles proprio perché di base come società multinazionale siamo assolutamente convinti della necessità e dell'opportunità di un set di regole uniche per tutti i paesi europei dal nostro punto di vista come dicevo anche prima è fondamentale che ogni normativa di questo tipo quindi possa trovare il giusto bilanciamento tra assolutamente la naturale sacrosanta tutela dei dati personali delle persone e anche la necessità di continuare a poter cogliere le opportunità che vengono offerte penso riconosciute da tutte dal mondo anche del digitale quindi opportunità in termini di crescita economica eccetera quindi sta lì la difficile ricerca di un equilibrio tra tutela e promozione e per trovare questo equilibrio come diceva anche Sibilla prima probabilmente ci vuole anche una certa flessibilità bisogna trovare delle regole che possano adattarsi che possano essere proporzionali a ogni tipo di servizio che andranno a regolamentare un servizio servizi soprattutto che caratterizzano il nostro mondo quello del digitale in costante mutamento e evoluzione oggi volevo concentrarmi su due aspetti fondamentali che vengono trattati dal regolamento magari comincio con uno e poi dopo nel secondo giro tratterò l'altro così non occupo troppo il microfono da un lato quello che ci caratterizza e al quale si pensa sempre quando si parla di Facebook quindi del mondo della pubblicità i dati quindi il consenso degli utenti come viene fornita come conciliamo il fatto il nostro modello di business che riposa sulla pubblicità online con i diritti alla privacy e il controllo necessariamente esercitato dalle persone che utilizzano la nostra piattaforma e poi il secondo il diritto all'oblio di cui si è parlato tantissimo e che chiaramente caratterizza il mio ex datore di lavoro ma naturalmente che ha anche un impatto importante sulla piattaforma che rappresento adesso partiamo quindi parliamo di consenso quindi come viene trattato il consenso all'interno del regolamento partiamo da un principio assolutamente fondamentale è chiaro che è stato detto anche dalla dottoressa Palombo ma è fondamentale per noi chiaramente l'utente deve poter esercitare e mantenere il controllo sui suoi dati quando questi sono oggetto di trattamento da parte delle società che forniscono servizi online questo significa che al consumatore prima di tutto dovranno essere fornite informazioni chiare sulle modalità e sulle finalità con le quali vengono utilizzati i suoi dati devono essere informazioni aggiungo visibili e di questo appunto si è occupato anche recentemente il garante aggiungiamo noi probabilmente adatte anche al mezzo quindi sufficientemente flessibili noi per facebook ci siamo inventati in un altro ambito appunto il dinosauro che appare e che ti fa andare attraverso tutti questi vari passi quindi a seconda della piattaforma questo proprio per evitare l'effetto di non lettura di cui parlava Sibilla prima questo proprio per entrare anche per essere per essere riconosciuta come importante come utile dalla persona che sta utilizzando la piattaforma e non come un disturbo perché se no sarà controproducente e chiaramente la persona deve essere assolutamente in grado di esprimere il proprio consenso a questo tipo di attività che vogliamo provare di profilazione come affrontiamo come affrontiamo questi temi in facebook innanzitutto come dicevo prima se si parla di facebook il valore del servizio che forniamo è quello di mettere in contatto mettere in contatto le persone consentire alle persone di connettersi tra loro di scambiarsi informazioni consentire anche alle aziende di fornire informazioni alle persone che sono sulla nostra piattaforma ogni persona che si registrerà su facebook dovrà dare naturalmente il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati quindi dovrà accettare la nostra privacy policy ogni volta che questa privacy policy verrà modificato verrà questa persona riceverà una mail o un'informativa nell'ambito della sua navigazione sul fatto che la privacy policy di facebook ha subito una modifica e che tipo di modifica quindi dicevo o via mail o via mini banner ogni persona che è su facebook ha la possibilità di utilizzare questo strumento che si chiama in inglese download your information c'è anche chiaramente c'è la versione italiana ma non mi ricordo esattamente sarà scarica le tue informazioni questo consente di capire esattamente quali sono le informazioni non solo che io ho messo su facebook perché a quelle ci arrivo anche per esempio attraverso lo strumento del registro di attività ma anche soprattutto che tipo di informazioni ha l'azienda su di me direttamente quindi come i contatti messenger anche appunto la mia geolocalizzazione e una serie di informazioni alle quali non penso automaticamente ma che attraverso questo strumento posso consultare una a una chiaramente io a qualsiasi momento e questo ancora non si dice sufficientemente ma me ne posso anche andare cosa che non speriamo che avvenga ma me ne posso anche andare da facebook quindi posso disiscrivermi posso disattivare il mio profilo oppure proprio cancellarlo definitivamente negli Stati Uniti recentemente avrete sentito abbiamo introdotto una cosa che fanno anche la maggior parte dei nostri concorrenti quindi la facciamo anche noi per il momento solamente negli Stati Uniti ma probabilmente arriverà anche in Italia la pubblicità basata sugli interessi chiaramente fare questo passo secondo la logica anche di privacy by design di cui parlavo prima significa prima di tutto informare le persone che stiamo facendo questo passo e che quindi sta avvenendo questo cambiamento che quindi le informazioni basate sulla loro navigazione verranno percepite e utilizzate da facebook anche per fornirgli pubblicità che sono più in linea con i loro interessi ma questo significa anche appunto consentirgli di accettare questo fatto oppure di ricevere maggiore informazione anche molto in linea con il recente regolamento espresso le linee guide espresse dal garante italiano hanno la possibilità di andare a vedere quali sono le cosa cosa significa più nel dettaglio questo cambiamento e anche di fare opt out completamente dalla pubblicità basata sugli interessi poi possiamo anche approfondire quello che invece si sta facendo anche in Italia su questo tema altra cosa molto importante però è l'introduzione di uno strumento che mi consente per ogni pubblicità di capire perché io sto vedendo questo annuncio pubblicitario e quindi di arrivare a quali sono le categorie di interessi che sono state identificate rispetto alla mia persona e di gestire queste categorie di interesse quindi sempre nell'obiettivo di fornire alle persone il controllo sulla tipologia di pubblicità che sta visualizzando quindi come dicevo prima penso che una definizione troppo stringente dal nostro punto di vista e soprattutto generalizzata delle modalità con le quali le persone devono essere informate non solo questo è abbastanza evidente ma anche esprimere il loro consenso all'utilizzo di questi loro dati sono principi sacrosanti ma sono sempre principi che vanno che devono essere proporzionali e anche adatti al mezzo che si sta utilizzando quindi ancora una volta questo tema della flessibilità di cui parlavamo prima mi fermo qui per non utilizzare troppo tempo Montegrazie il tuo intervento mi faceva in mente quello che ha scritto Ryan Calo visual notice cioè l'idea di superare il modello dell'informativa tradizionale ma di arrivare a un'informativa che sia attraverso l'esperienza poi Calo non la definisce troppo nel suo paper perché ancora diciamo però l'idea che molte volte ad esempio vedendo cosa si può fare con i tuoi dati vedendo se io lascio questo dato che picture che cosa emerge una simulazione tu capisci molto di più che in un altro modo un po' come quando passatevi l'esempio ma dico più che altro per gli studenti che magari quando tu vedi un crash test di una macchina poi capisci che forse messi la cittura di sicurezza ha un senso ecco non deve essere per forza una cosa così di impatto emotivo tipo la pubblicità all'inglese eccetera però la visual notice dice io non leggo l'informativa tradizionale però se mi fai vedere una simulazione di quello che succede se quel dato lo lascio libero o aperto forse lo capisco e forse decido più consapevolmente che non vuol dire anche qua un punto secondo me interessante data protection è proteggere non chiudere i dati cioè lasciare all'utente la sua autonomia di scegliere se quel dato lo vuoi condividere o no in piena consapevolezza non vuol dire i dati nessuno ne può toccare bisogna fare del paternalismo quindi il tuo dato te lo devi tenere nascosto ecco l'ultimo relatore di questo primo giro di tavoli poi a beneficio dei miei studenti che saranno stanchi dirò che il secondo giro faremo magari un pochino più breve mi spiace un po' per i relatori però capisco un po' le esigenze vista l'ora l'ultima relatrice è Valentina Frediani che porta la posizione italiana direi dell'impresa italiana del settore IT e anche questo è molto importante molto importante perché appunto dobbiamo ragionare su diverse è vero quello che diceva l'autoressa Palumbo non è solo una questione di scala e dipende cosa fai con i dati però è anche una questione di scala nel senso dal punto di vista culturale dal punto di vista dei mezzi noi abbiamo delle start up molto piccole che fanno cose magari molto addentro nei dati però a volte non è che non vogliano investire in quello proprio non lo capiscono non hanno proprio la percezione del problema quindi è ancora un discorso diverso secondo me ecco allora buonasera a tutti avvocato Valentina Frediani io ho fondato nel 2002 consulente legale informatico punto it e è un po' l'anno in cui ho iniziato a lavorare eravamo ancora sotto la 675 io mi occupo di diritto delle nuove tecnologie privacy e quindi posso dire di essere cresciuta professionalmente con la normativa in materia di privacy io stasera porto un punto di vista che è quello di Assimform Assimform è un'associazione che rappresenta il comparto italiano nell'ambito delle aziende che operano nell'ICT porto questo punto di vista vedrete che i punti sono dei punti che io ho individuato personalmente a tavolino con chi rappresenta anche l'associazione nei vari gruppi di lavoro in particolare security e privacy dove peraltro Simila Ricciardi ha lanciato il gruppo all'interno all'interno di Assimform però lo porto con una visione duplice cioè sì Assimform le aziende ICT dall'altra poi per il tipo di lavoro che faccio essendo un legale che opera nelle aziende non solo che svolgono attività ICT ma aziende che svolgono qualsiasi tipo di attività è chiaro che porto anche un punto di vista del business che subisce o attinge rispetto a questo regolamento perché consumer bisogna parlare sì dell'utente finale ma bisogna parlare poi anche dei riflessi che nel business ha il regolamento europeo intanto io penso e spero che voi abbiate letto la bozza del regolamento europeo e quindi bene o male abbiate un'impressione in linea generale no non lo voglio sapere vi posso dire che invece può essere non dico un'esperienza entusiasmante però sicuramente potrebbe arricchire la percezione reale di quello che è il concetto di privacy anche per andare a fare dei confronti allora intanto io la prima volta che ho letto il regolamento europeo ho focalizzato immediatamente una sensazione lavorando nel settore da consulente che vive di questo ma dall'altra parte paga anche lo scotto del malessere delle aziende nel dover subire tra virgolette l'imposizione normativa di tutto quello che la normativa privacy porta anche a livello di investimenti la prima impressione è che il regolamento europeo si concentri maggiormente sulla parte relativa alla sicurezza abbandoni molto quella centralità del documentale che oggi con la normativa privacy abbiamo in Italia e vada un po' più sulla parte sostanziale è una prima impressione importante poi andando a spuntare a leggere le varie specifiche ancora stiamo parlando di una bozza si sono un po' succedute varie sensazioni intanto occorre partire da un assunto in Italia abbiamo un problema enorme sia nell'ambito delle aziende ICT che nelle altre aziende la sicurezza è vista costantemente come un costo e non vuole entrare nella testa degli imprenditori che la sicurezza deve diventare un valore aggiunto deve diventare un elemento di competitività voi vi state affacciando vi affacerete a breve nel mondo del lavoro bisogna portare più concretezza prima c'è stata un'osservazione giustamente Alessandro ha detto le norme devono essere lette in un modo un po' come un vantaggio io sono di questo avviso un po' caratterialmente il bicchiere va visto mezzo pieno ma poi perché alla fine bisogna dare una lettura anche equilibrata di quelli che sono gli obblighi quando nel 2004 è uscita la legge sulla privacy che imponeva delle misure di sicurezza adottare delle credenziali di autenticazione minimo 8 caratteri adottare dei sistemi anti-intrusione adottare dei sistemi di backup per il ripristino dei dati le aziende ne sono uscite sconvolte oggi le possiamo considerare delle misure banali che qualsiasi tra un po' casalinga che abbia un sistema appunto utilizzi social o altro va ad adottare perché? perché c'è una crescita da questo punto di vista c'è una crescita e dall'altra però bisogna ragionare anche dal punto di vista delle aziende perché ci sono degli investimenti da fare allora sicuramente oggi la percezione del concetto di sicurezza informatica da parte delle aziende è estremamente carente ma non è un qualcosa di isolato solo legato alla sicurezza è il fatto che gran parte delle aziende soprattutto quelle medio piccole ma l'Italia è fatta di queste aziende sia nell'ambito ICT che non percepiscono sostanzialmente ancora la figura dell'ICT manager interno o dell'azienda prestatore di servizi esterni nell'ambito informatico solo come uno strumento di lavoro un po' il pc non mi funziona la rete va lenta in realtà l'ICT deve entrare nelle strategie di business delle aziende e prima le aziende lo capiranno prima riusciranno non solo a sopravvivere ma a svilupparsi in un ambiente economico molto difficoltoso prima parlavi delle start up quello che tu dici io mi trovo spesso davanti a delle idee geniali dove da ultime per forza ma in via casuale sono venuti dal legale o comunque hanno avuto una percezione che forse qualche aspetto legale incidentalmente li riguardasse e sono venuti fuori non solo dei rischi legati all'immissione sul mercato ma magari che hanno vanificato anche lo sforzo di sviluppo del prodotto su cui si basa la start up semplicemente perché non si è lanciato il concetto inizialmente di dire ma vogliamo magari verificare in parallelo l'aspetto normativo io su questo ci dalle mie parti io sono toscana si sente si dice ci pigio molto mi batto molto per questo aspetto perché bisogna evolversi io ho apprezzato molto l'intervento del rettore perché è la prima volta che sento in una sede come la vostra universitaria portare avanti un concetto di trasversalità il fatto di sapere dove attingere non importa onniscienti non siamo nessuno io mi occupo da 12 anni di diritto delle nuove tecnologie ho delle conoscenze in ambito tecnologico bisogna avere l'umiltà in molte riunioni chiedo all'ICT manager di che diavolo stiamo parlando perché la tecnologia va avanti perché poi c'è un utilizzo delle espressioni gli informatici sono fantastici che non sempre diciamo possono essere prese direttamente da chi fa l'avvocato da chi agisce in ambito giuridico ma bisogna anche avere l'umiltà di prendere come riferimento dei soggetti che magari possano aiutarci a contribuire a sviluppare quelle che sono le strategie legate all'ambito ICT dicevo le statistiche in ambito di attacchi alla sicurezza ci dovrebbero dare una motivazione maggiore per le aziende per applicare e recepire anche l'ambito del regolamento europeo l'aumento dell'utilizzo dei social e poi ovviamente c'è una carenza di politica di sicurezza informatica che possa andare a riconciliare le imprese col consumer perché i costi in ambito di sicurezza sono sempre visti come un gravame dove non c'è mai uno sguardo alla tutela dell'utente finale eppure la prima domanda che io faccio a quell'amministratore delegato quando mi siedo e mi dice vabbè via avvocato vediamo come ce la possiamo smarcare questa normativa privacy con il minore impatto possibile e la prima domanda è vogliamo parlare di dati come patrimonio aziendale anziché solo dati visti da un punto di vista della privacy vogliamo allargare la visione e capire che i dati di un consumatore finale piuttosto che in un rapporto di business to business non solo sono il nome cognome o una profilazione ma costituiscono il tuo pane quotidiano sul quale andare a realizzare e estendere la tua attività cerchiamo di avere una visione un pochino più alta da questo punto di vista è molto importante quindi e nel regolamento lo abbiamo l'introduzione di quelli che sono i concetti privacy by design e by default perché c'è una valorizzazione di quella che è la sicurezza informatica da un punto di vista sostanziale poi c'è un'altra introduzione molto importante quella della figura del data privacy officer come figura di riferimento garante interno all'azienda di quella che è la riconciliazione tra la realtà aziendale da un punto di vista di sicurezza e l'obbligo normativo e poi la redazione di un privacy impact assessment cioè una documentazione interna che dì anche una continuità storica e di scelta rispetto a quelle che sono state individuate come misure di sicurezza anche in progress all'interno dell'azienda stessa quindi dal punto di vista delle imprese questo regolamento può dare veramente degli input anche in maniera logica di come seguire e dare un seguito a quelle che sono state le prime applicazioni rispetto al codice privacy però se vogliamo essere realistici ci sono ancora dei punti interrogativi in assi in forma abbiamo discusso a lungo dell'impatto del regolamento c'è un problema di definizione dell'ambito di applicazione siamo partiti con aziende fino a 250 utenti 500 chi più e chi meno pubblica amministrazione quindi questo è un aspetto molto importante perché perché il regolamento non può costituire un discrimine in ambito di competitività non me ne vogliono ovviamente chi rappresenta delle grandi aziende multinazionali a questo tavolo però dobbiamo pensare che c'è la grande azienda grande grande azienda ci sono le medie aziende ci sono le piccole aziende dobbiamo andare a capire dove dobbiamo andare a parare e non è vero che se l'adottiamo il regolamento nelle grandi aziende noi già andiamo a coprire realmente la sicurezza perché tantissimi dati sono frazionati e spersi tra piccolissime realtà aziendale e devono essere altrettanto tutelati con la stessa forza perché perché comunque sono proprio quelle realtà che magari hanno maggior deficienze da un punto di vista di sicurezza e che sono più facilmente attaccabili e dati maggiormente carpibili e quindi è ovvio che devono essere in qualche modo coperte e poi l'individuazione del data privacy officer nel regolamento ancora non è vista in maniera definita certa figura interna figura esterna come andarla a gestire ricordiamoci che c'è anche un problema gerarchico perché qui bisogna essere pratici possiamo anche adottare in una grande azienda il data privacy officer ma bisogna dare delle garanzie di indipendenza reali perché viene pagato da quella che è l'azienda stessa e vi posso dire che con tutte le buone intenzioni quando ci sono dei rapporti di gerarchia entrano in essere anche dei meccanismi mentali per cui chiaramente si tende in qualche maniera ad andare a affrontare le tematiche in maniera smorzata questo non vuol dire inquadrare un data privacy officer che abbia una rigidità tale da non far lavorare l'azienda ma l'elasticità deve essere un'elasticità in una proiezione in qualche maniera di raggiungimento degli obiettivi e non un piegarsi a rinunciare alla sicurezza reale all'interno dell'azienda io ho terminato spero di avervi dato la posizione esatta di Assinform in cui chiaramente non ho potuto mancare di infilare la mia perché per questioni ovviamente diciamo anche personali del supporto che sto dando in Assinform è molto importante portare alcuni concetti non solo tra le aziende ICT ma anche di altro genere e vi invito ovviamente da questo punto di vista se vi è possibile a ridare una lettura in particolare a quegli articoli non dico tutto perché è un malloppo così il regolamento europeo la bozza di regolamento europeo ma quegli articoli centrali in cui si parla di sicurezza sono fondamentali perché lì si agganciano tutte le attività relative alla costruzione dei processi organizzativi alla governance alla compliance e quindi vanno a toccare anche vari aspetti in ambito aziendale che non riguardano solo il comparto ICT ma che riguardano tutte le varie direzioni e tutte le varie funzioni operative bene grazie l'ultimo breve giro di tavola è diciamo a domanda non è a intervento libero e allora sono emerse alcuni aspetti durante questo questo lungo dibattito a me sembra che un punto su cui tutti bene o male concordino è la difficoltà e la complessità che questo sistema di data protection che tutti i sistemi per carità di data protection introducono ed è una complessità non è da vedere come un ostacolo però sicuramente va gestita la complessità e va gestita nel migliore dei modi perché come detto giustamente alla base ci sono dei diritti fondamentali e quindi non è un'opzione la privacy è necessaria perché fa parte del se noi vogliamo rispettare i diritti fondamentali dobbiamo cercare di attuare le norme adeguate come in tanti altri campi e allora ecco una domanda che volevo rivolgere alla dottoressa Palumbo per il ruolo che ricopre è quale pensa che possa essere nello scenario europeo e del nuovo regolamento il ruolo dei garanti quindi i garanti che hanno avuto un ruolo determinante finora un ruolo frammentario se mi si passa al termine perché comunque la nazionalizzazione che deriva dalla direttiva ha creato della frammentarietà ancorché gli stessi garanti abbiano notato con questa frammentarietà penso all'articolo il gruppo articolo 29 via dicendo ecco come pensa che possa essere quale pensa che debba essere anche rispetto a dicevamo poc'anzi la complessità dell'impact assessment e via dicendo il ruolo di un'autorità garante sì grazie per la domanda e rispondo tenendo presente lo scenario nazionale è quello europeo perché la riforma ovviamente sposta verso l'Europa molte delle cose che oggi sono svolte a livello nazionale quindi il ruolo delle autorità garanti come le conosciamo oggi subirà un profondo cambiamento con l'entrata in vigore del regolamento perché non avranno più un ruolo di interpretazione della norma e quindi molti degli aspetti nazionali verranno meno perché il parametro sarà direttamente la norma europea quindi ci sarà necessità di rafforzare la cooperazione tanto più che ci sono degli obblighi che vengono introdotti dal regolamento di decidere insieme quindi tutte le volte che ci sarà un global player che potrà decidere di stabilirsi in Europa o potrà indirizzare i suoi prodotti i suoi servizi verso il territorio europeo tutte queste volte bisognerà inserire nel lavoro delle autorità di protezione dei dati un meccanismo che consenta di avere questo famoso one stop shop cioè un'unica autorità che è in grado di definire quali sono gli obblighi di protezione dei dati dell'azienda in modo che l'azienda una volta adempiuti quegli obblighi può essere in qualche modo tranquilla che non ci saranno altre autorità che in un modo o nell'altro solleveranno questioni sul trattamento di dati questo è un principio introdotto dal regolamento proprio per completare e rendere applicabile la regola unica quindi è una regola unica che deve essere applicata nello stesso modo in ognuno dei paesi che fanno parte dell'unione quindi c'è un meccanismo di individuazione di una lead authority che può essere l'autorità di stabilimento può essere l'autorità prescelta e quindi quella autorità sarà l'autorità che dovrà fare in modo che la società rispetti gli obblighi di protezione dati questo meccanismo è uno dei meccanismi più complicati e più combattuti del regolamento lo stesso servizio giuridico della commission del consiglio ha detto che è un meccanismo che tiene conto solo dell'interesse delle aziende e non tiene conto dell'interesse del cittadino e quindi durante la presidenza italiana soprattutto si sta cercando di inserire in questo meccanismo il punto di vista del consumatore del titolare del diritto in modo da dare prossimità a questa persona e quindi di poter avere la tutela nel luogo più vicino a lui quindi lasciare alla persona di scegliere a quale autorità di protezione dei dati riferirsi e poi mettere in piedi un meccanismo per cui comunque la decisione che viene assunta dalle autorità ha una coerenza e una consistenza unitaria su questo punto c'è ancora una grossissima confusione e battaglia quindi non so non credo che la presidenza italiana riuscirà a superare questo problema perché il problema poi è legato anche alla giurisdizione quindi non è soltanto un aspetto di protezione dei dati ma siccome il cittadino ha la possibilità di scegliere se andare dall'autorità di protezione dei dati o dal giudice è chiaro che un meccanismo di cooperazione a livello amministrativo si può anche mettere in piedi ma nulla impedirà poi al cittadino di appellare quella decisione davanti alla corte di sua di sua istanza quindi il giudice nazionale precostituito per legge per costituzione per il cittadino italiano ma non non cittadino chiunque si trovi sul territorio italiano è il giudice italiano quindi questo questo meccanismo che sembrava molto semplice eh sì ma che ci vuole facciamo così prendere una decisione poi in realtà andando a svilupparlo a chiarirlo comporta delle difficoltà enormi su cui il servizio giuridico del consiglio ha fatto riflettere e quindi ora se ne discuterà perciò il mastodonte è così perché non mentre la convenzione 108 si limitava ad indicare un principio molto semplice e poi lasciava agli stati l'interpretazione quindi la libera valutazione di quel principio il regolamento invece impone una regola e questa regola deve essere talmente precisa da non poter offrire a nessuno una variazione nazionale e l'impresa diventa un'impresa quasi impossibile quindi c'è una moltiplicazione delle pagine degli articoli quelli che nella direttiva erano 30 articoli diventano 90 ci sono alcuni articoli chiusi alcuni articoli che lasciano poi agli stati membri di intervenire interpretare e migliorare e quindi il ruolo delle autorità il ruolo delle autorità sarà un ruolo molto più importante di quello del gruppo 29 che è il gruppo di consulenza il gruppo in cui le autorità cercano di coordinarsi l'una con l'altro proprio perché questo gruppo potrebbe avere una come effetto la obbligatorietà delle decisioni che prende questo è un passaggio ancora in discussione e quindi dare alle decisioni del gruppo un valore vincolante potrebbe essere da un lato la soluzione ma dall'altro una complicazione quello che voglio brevemente dire sull'evoluzione del ruolo delle autorità che già si riscontra oggi è che sempre di più le autorità devono far tesoro delle diverse competenze e quindi la competenza legale non basta più e non basta più da molto tempo c'è uno sviluppo in quasi tutte le autorità che se lo possono permettere quella italiana è sotto spending review ma sta cercando di aumentare il ruolo degli ingegneri il ruolo dei tecnologi proprio perché non si riesce a seguire un processo o entrare in un trattamento di dati operato da un'azienda quindi se non si conosce il sistema informativo che viene usato e se non si comprende in diagonale che cosa effettivamente succede e quindi le autorità che devono fare le ispezioni o i controlli o dare un parere perché c'è il controllo preliminare sulla compliance dei nuovi sistemi informativi quindi devono mettersi in grado di capire di che si parla per poter scegliere e adottare decisioni e quindi anche il gruppo 29 che è la loro forma di coordinamento europeo ha un gruppo che si chiama Technology che è il gruppo che in questo momento non esiterei a definire il più importante è il gruppo che ha studiato e ha fatto adottare poi al gruppo 29 le decisioni sulle tecniche di anonimizzazione sull'Internet of Things anche entrando tecnicamente nel dare una guidance quindi è il gruppo focus del gruppo 29 e la prossima frontiera delle autorità sarà quella di cercare di cooperare in modo ancora più pragmatico perché le autorità grandi che hanno più technology possano dare alle piccole che hanno meno risorse il loro skill o un aiuto anche per svolgere i loro compiti quindi grazie grazie molto anche perché questo è proprio un tema molto dibattuto perché poi ovviamente ci sono anche ruoli delle autorità che vengono a essere toccati rispetto invece a spostandoci dal lato impresa ecco Sibida Ricciardi ha fatto un quadro molto che condivido molto cioè sull'importanza che le imprese investano in data protection eccetera la mia domanda è ma in realtà non è la mia domanda la critica che arriva dagli Stati Uniti molte volte è quella di dire ma la data protection oltre a essere un investimento utile per l'impresa può anche essere una barriera uno strumento anticoncorrenziale uno strumento che privilegia alcune corporation ai danni degli altri cioè c'è questa componente anche nella regolamentazione oppure un certo tipo di regolamentazione può accentuare questa componente che forse c'è in tutte le regolamentazioni non lo so ecco dubbio allora la questione è sicuramente molto dibattuta io credo che soprattutto appunto negli Stati Uniti io credo che sia vero che ci sia una componente concorrenziale nel senso che oggi chi è in grado di fornire una tutela dei dati fatta in un certo modo secondo me ha un vantaggio competitivo molto forte vantaggio competitivo che io credo sia giusto perché da un certo punto di vista è quello che poi permette anche di tutelare il consumatore cioè è quel vantaggio che porta il consumatore a tornare al centro perché come diceva anche prima Laura se no gli utenti se ne vanno e quindi a questo punto l'attenzione dell'azienda viene verso la tematica e quindi il risultato finale è quello che vogliono tutti cioè che ci sia più tutela il rischio che secondo me non va invece corso è che poi questo diventi invece una questione di lobbying e che quindi si perda poi quello che è veramente il punto di arrivo che è avere dei consumatori felici perché poi alla fine chiunque vende vende per avere i suoi clienti o consumatori contenti se questo si perde di vista questo e diventa poi invece un braccio di ferro tra posizionamenti appunto più lobbistici che perdono però di vista il punto finale secondo me corriamo un grosso rischio perché poi corriamo un rischio di avere delle regolamentazioni che non hanno più senso perché sono delle regolamentazioni spinte in delle direzioni e so che questo discorso fatto da Microsoft è peculiare nel senso che noi siamo sempre visti un po' come quelle che poi spingono in una direzione piuttosto che un'altra ma invece credo che sia importante nella maturità di un'azienda anche capire questo cioè le spinte devono essere nell'interesse dell'utente finale perché se no si rischia di creare dei giochi che poi si spezzano e questa maturità penso che sia una maturità importante per le aziende nel mondo della tecnologia e che spero si diffonda sempre di più ovviamente il discorso in America è molto più spinto perché poi le attività sono molto più spinte noi per esempio abbiamo fatto una campagna che si chiamava Scroogle che negli Stati Uniti è molto famosa che è stato un disastro e lo ammetto candidamente perché era fatta allo scopo di che è una cosa che non funziona perché tu devi fare bene perché sei tu il migliore non perché usi i tuoi strumenti per dimostrare che qualcuno è peggio di te e quindi l'input che voglio dare a voi è questo pensate sempre quando si pensano a queste cose ci sono sicuramente dei grossissimi vantaggi cioè parlo a voi come gli imprenditori del futuro o anche dell'immediato c'è sempre un vantaggio competitivo che si può ottenere attraverso la tecnologia dando dei servizi che sono qualitativamente migliori e dei servizi che tutelano la privacy dei propri utenti sono dei servizi che sono per forzatamente qualitativamente migliori dall'altro lato attenzione a non entrare in un vortice in cui poi questa cosa viene strumentalizzata perché poi secondo me il giochino si rompe e alla fin fine otteniamo l'effetto opposto grazie è sicuramente interessante c'è Microsoft c'è Facebook non c'è Google non c'è IBM per citare i grandi e secondo me e quando dice Laura stiamo cambiando secondo me è questo un aspetto che emerge ed emerge anche se voi comparate questi diversi player cioè l'attenzione per la privacy è anche frutto di una certa età diciamo delle imprese un'impresa che dà più tempo sul mercato è un'impresa che ha più relazione con i consumatori ha più relazione con i governi ha più relazione con tutto un mondo dove il free riding questo tipo di attività non va più bene possa andare bene nella tua fase iniziale perché lo sappiamo tutti i dati sono anche soldi e sono anche quindi sfruttamento commerciale però poi per essere maturi e quindi per avere dei buoni contratti col pubblico o col privato bisogna anche tenere conto di quelli che sono i valori e qui il discorso competitivo e qui anche la domanda che faccio cioè la domanda in realtà sarà già fatta da sola la domanda cioè c'era promesso che avrei parlato di un tema molto rischioso per Facebook perché ha la timeline se non ricordo male che è il diritto all'obbrio e quindi ecco ci vuoi dire qualcosa su come vedete voi questo diritto all'obbrio io devo dire non vi tedi ho visto allora ma sono d'accordo con quello che diceva lì by grave c'è molta confusione diritto all'obbrio diritto di cancellazione right to be forgotten cioè non sono la stessa cosa vengono a volte strumentalmente confusi compito nostro compito delle imprese e non confondere strumentalmente ma comunque farsi carico del problema che c'è in un certo qual modo sì in effetti un tema molto complesso è appunto che necessita ancora di analisi e di risposte penso oltre a naturalmente la decisione della Corte di Giustizia che ricordiamolo tra l'altro tocca un motore di ricerca che è una realtà comunque diversa dalla nostra anche se poi assolutamente avrà conseguenze anche su operatori come noi in realtà si pongono un sacco di domande se si pensa appunto al diritto all'obbrio nelle sue varie definizioni la prima cosa probabilmente sarebbe quella di definire cos'è il diritto all'obbrio e bisogna anche partire da una serie di principi barra domande per analizzare per discutere di questo tema innanzitutto la natura di internet che nasce non solo il social network ma in generale internet come piattaforma come vettore di scambio di informazioni di commento di espressione insomma come un grande strumento di espressione globale generalizzato e anche di ricerca di informazioni e di accesso a queste informazioni poi se si va nel dettaglio del cosiddetto diritto all'obbrio chi deve prendere la decisione quella penso che sia uno dei nodi cioè chi è l'impresa è google è facebook è l'impresa che ha cioè è anche è auspicabile che un'impresa decida se è giusto che o e quando è giusto che un'informazione che ricordiamolo probabilmente inizialmente era legalmente condivisa sia ancora giusto condividerla dopo quanto tempo è giusto che sia un'impresa deciderla dal mio personale punto di vista no però ecco e anche da quello esatto assolutamente e penso infatti avendo letto anche penso che di questo siamo tutti d'accordo però allora chi può prendere questa decisione e poi appunto l'aspetto che stavo sottolineando è importante ricordarsi che la maggior parte di queste informazioni all'inizio sono state condivise in modo legittimo non costituivano cioè poi ci sono casi diversi ma non costituivano una violazione della privacy e quindi quando è che diventano una violazione o diventano oggetto dell'esercizio di un diritto quindi a questo punto più che definire una posizione si può pensare a quali potrebbero essere dei principi sui quali concentrarsi quando si parla di diritto all'oblio e quindi quali potrebbero essere diciamo delle linee guide da seguire prima di tutto riconoscere che il diritto alla libertà di espressione include anche quello di disseminare informazioni e però allo stesso tempo è importante stabilire il confine di questo diritto questo è il primo principio altro tema da trattare quando si parla di diritto all'oblio è quello del diritto di rettifica capire e stabilire una differenza è un limite tra l'esercizio di diritto di rettifica quando si parla di un giornale di un organo di stampa ma come si può applicare se ne è discusso in Italia anche negli ultimi anni l'obbligo di rettifica a un blog non gestito da professionisti o ancora di più ricordiamo l'emendamento dall'IA a un social network volendo a Google anche questo definire i limiti del diritto di rettifica limitare a questo punto e definire perlomeno il diritto all'oblio o alla cancellazione ai casi in cui il trattamento diventa illecito e allora chi è torniamo alla domanda prima definire chi è che può decidere che questo trattamento dopo un certo periodo di tempo a un certo punto diventa illecito e quindi identificare e legittimare un'autorità competente che possa individuare e decidere se si può esercitare questo diritto sono quasi alla fine definire perché comunque tema complesso definire i ruoli e le responsabilità di tutti i vari titolari quando si parla di Facebook appunto per esempio come e chi può esercitare questo diritto se si pensa che Facebook è una piattaforma all'interno delle quali le persone inseriscono delle informazioni allora è la persona che ha inserito l'informazione oppure è Facebook in quali casi come in che termini che deve appunto eventualmente procedere alla rimozione una volta che gli è stato indicato da un'autorità competente su questi temi e quindi anche lì sempre ricordare basarsi su un principio di proporzionalità e di necessità questo è un po' il tema poi non abbiamo tempo penso di parlare di Facebook nello specifico però eventualmente se c'è una domanda come lo stiamo gestendo per il momento ne posso parlare dopo grazie va detto che Laura aveva un compito veramente titanico perché ci sono fior di esperti che in questo periodo vengono consultati in tutta Europa per risolvere il problema ma lei l'ha dovuto risolvere in tre minuti però mi sembrava giusto che questo tema venisse almeno sfiorato perché anche questo è uno degli aspetti molto dibattuti del regolamento e per chiudere dal tavolo l'ultima domanda per Valentina Frediani così chiudiamo il cerchio siamo partiti da Politecnico come luogo di contatto fra realtà imprenditoriale realtà scientifica realtà di ricerca e arriviamo chiudiamo con la versione delle nostre imprese quindi l'impresa italiana rispetto al regolamento ecco nel tuo precedente intervento hai visto direi abbastanza positivamente il regolamento e io mi domando ecco quali sono le criticità che tu almeno alcuni punti che reputi che possono invece costituire una criticità non in generale ma per la realtà italiana specifica la realtà che come dici giustamente è una realtà poi molte volte un po' diversa perché è una realtà ricca di PMI di aziende piccole medie micro eccetera e dove effettivamente a volte la privacy è ancora un po' da scoprire ecco ma guarda io penso che la difficoltà reale sia un problema culturale prima di tutto il resto nel senso che è stata un po' la premessa che ho fatto nelle aziende si continua ma questo su tutte le norme qualsiasi tipo di normativa la si fa perché la si deve fare non la si fa subito cioè io tutt'oggi su grandi e piccole aziende voglio dire il codice privacy è in vigore da dieci anni noi abbiamo richieste di consulenze per adeguarsi al codice privacy e io candidamente dico forse a questo punto aspettiamo un attimo il regolamento perché se si deve fare uno sforzo impiegare un anno in un'azienda per adeguarsi a una norma che poi verrà superata cioè guardiamo di che cosa stiamo parlando quindi è un problema culturale questo su tutte le norme questo ho detto anche inizialmente vedere il costo poi nello scorrere il regolamento io sicuramente vedo degli occhi persi nel vuoto quando parlo del regolamento con le aziende per capire anche di andare a prevenire io mi sono azzardata in alcuni ambiti sia a livello di eventi ma anche lavorativamente a ragionare già ora sui contratti che si stanno andando a stipulare pluriennali con dei fornitori in ambito ICT e dire buttiamo un occhio a regolamento perché ci sono delle indicazioni specifiche la cosa è guardata un po' da alieno ma perché proprio perché ecco forse le aziende si dovrebbero affidare un pochino di più da questo punto di vista c'è una carenza fondamentale e questo purtroppo dal punto di vista dei legali perché non c'è un allineamento con lo sviluppo delle tecnologie purtroppo il legale sta qua la tecnologia sta là e non comunicano e non vogliono comunicare che può essere un vantaggio da chi lavora nel settore perché chiaramente può aumentare il business ma è un grosso svantaggio culturale perché non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire e quindi questo è un primo limite e poi c'è un limite reale italiano per cui la piccola e media azienda ha spesso un unico interlocutore a livello di fornitura ICT quello che dice quell'interlocutore è un vangelo e quindi se c'è una cattiva interpretazione a livello normativo di contenuto di norma a livello applicativo è difficile andare a rimuovere quello che ormai sembra scolpito nella pietra perché me lo ha detto il mio fornitore il mio consulente quindi bisognerebbe fare un po' più di cultura non solo sulle aziende finali ma su chi opera nell'ambito ICT e questo tra l'altro Assinform lo sta facendo e sta cercando di farlo sui propri associati e sulle aziende che ruotano dintorno e poi anche negli ambienti in cui si parla di privacy di non andarla a confinare in qualche modo in qualcosa di imposto perché l'italiano per definizione l'imposto lo cerca di schivare questo è il classico grazie siccome nel programma sono previste domande dal pubblico io chiedo se il pubblico ha domande il pubblico tace perché è stato coperto di di nozioni che è tramandata dalle nostre università con grande pernicacia è vero che oggi Gini invece ha fatto l'esaltazione di questo nostro tentativo il Politecnico è effettivamente un po' un fiore a mocchiello da questo punto di vista il Politecnico di Torino Milano il Politecnico di Milano che è tanto un'eccellenza ha sì un corsetto di diritto istituzioni di diritto non si sa dove ti insegnano probabilmente che esiste il diritto ecco il Politecnico di Torino ha puntato sul corso è vero un corso specifico in ingegneria gestionale i cui ragazzi secondo me sono tra i migliori del Politecnico di Torino perché anche se noi li trattiamo malissimo e gli diamo voti bassissimi sono poi ragazzi che grazie a queste bastonate ma no ma è vero cioè purtroppo i nostri ragazzi sono quelli laureati con le medie più basse poi in realtà scopriamo che sono quelli che vanno in modo che vanno molto bene l'ha dovuto riconoscere oggi il mondo del lavoro proprio perché hanno moro malgrado no dovuto acquisire una sorta di linguaggio e di sensibilità perché un problema è la sensibilità a me spiace che oggi per esempio da un incubatore non sia venuto nessuno temo ora noi abbiamo uno dei migliori incubatori d'Europa che è stato addirittura il migliore del mondo nel 2004 premiato come i migliori incubatori dove ci sono tantissime piccole start up che lavorano nel ICT e per carità l'incubatore è ottimo tant'è che gli darà anche dei servizi legali molto importanti però forse se venivano a ascoltare qualcosa sarebbe stato bello un'ultima considerazione io trovo bellissimo questo tavolo di donne che sono arrivate sì se mi passate un'osservazione credo che in questo tipo di convegno seminario si veda anche il ruolo dell'università pubblica cioè fin tanto che c'è l'università pubblica noi riusciamo a fare questo tipo di convegno anche se il nostro pubblico è fatto di studenti principalmente perché negli avvocati hanno prestato troppa attenzione né le imprese hanno prestato troppa attenzione quindi quello che dovrebbe essere sì qualcuno però quello che dovrebbe essere la nostra utenza e quella pagante di un certo modello di università non c'è e quindi diciamo dall'altro lato però perché non c'è perché forse noi parliamo di un tema troppo avanti rispetto a quella che è la sensibilità del business oggi e se noi forse non avesse un'università pubblica un'università che si può permettere anche con sacrifici tutto sommato questo tipo di interventi grazie anche rapporti con le imprese per carità che vengono gratuitamente a questi inventi ecco grazie grazie a questo tipo di tessuto si può creare questo evento che per voi è una risorsa che sarebbe anche una risorsa per il contesto sociale in un altro contesto un convegno di questo genere è a pagamento e solo per pochi e quindi è una chiusura della cultura è una limitazione dell'accesso ecco questo è uno scenario che alcuni invocano che io non vedo come positivo ed è una ragione per cui nonostante la certa disattenzione anche all'interno del Politecnico per certi temi continuiamo imperterti c'era una domanda buonasera faccio coming out sono un avvocato volevo fare una domanda alla dottoressa Palumbo che riguarda una questione un po' delicata che è a proposito del marketing e delle attività di profilazione ci sono servizi di società web pensiamo alla posta elettronica offerta gratuitamente dove appunto l'utente in realtà è il prodotto che sfruttano i dati dell'utente per fare attività di profilazione queste attività mi pare possano avere oggetto anche dati sensibili quindi volevo capire qual è l'orientamento del garante e poi eventualmente il suo personale dottoressa Palumbo l'orientamento del garante in chiave del riforma c'è un articolo l'articolo 20 del regolamento che tratta proprio della profilazione e mantiene lo schema di vieto eccezione quindi c'è il divieto di profilazione o di trattamento automatizzato a meno che non ci siano delle garanzie adeguate ed è vietato la profilazione basata sui dati sensibili quindi questo è un dibattito molto molto delicato c'è stata una una grande discussione sponsorizzata dai tedeschi in particolare che vogliono introdurre una definizione di profilazione nel regolamento quindi definizione di profilazione e mettere poi nell'articolo nell'originaria proposta la commissione aveva evitato di introdurre una definizione perché la definizione ha una base c'è una raccomandazione sulla profilazione del Consiglio d'Europa la raccomandazione del 2010 che dà una lettura di un di un certo tipo se vuole poi ne possiamo parlare i tedeschi premevano per avere una definizione che poi è stata questa idea dei tedeschi è stata anche portata avanti dal gruppo articolo 29 nel senso di introdurre la definizione però forse l'introduzione di una definizione rende più debole l'articolo perché l'articolo invece era focalizzato sugli effetti dell'attività quindi l'effetto di un'attività di profilazione sulla persona e traeva delle conseguenze in termini di vieto e quindi gioco di vieto eccezione inserendo una definizione la definizione che è stata proposta parte dal trattamento di dati personali mentre invece sappiamo benissimo che la profilazione può non partire dai dati personali ed essere invasiva lo stesso se non di più perché per le cose che ci siamo anche detti prima che diceva il professor Bygrave questa è un'invasività quindi diciamo come idea personale idea italiana noi non eravamo a favore di sostenere una definizione di questo genere pensavamo fosse più opportuno riferirsi alla raccomandazione del Consiglio d'Europa e quello che il Consiglio d'Europa definisce essere un trattamento di profilazione grazie ci sono altre domande? se non ci sono domande ringrazio tutti per essere stati presenti oggi e speriamo che questo dibattito vi abbia meno per i studenti abbia aperto uno spiraglio su quelle che sono le implicazioni giuridiche e la data protection e per i regali sia stato interessante per avere voci diverse e anche ricordo una grande esperienza del professor Bygrave su questo tema e quindi un'occasione utile per riflettere grazie a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti